Il Cineca ha organizzato questa giornata nell'ambito di una collaborazione che ha con il Garante per la Privacy. Evidentemente il tema è molto caldo e questo nuovo regolamento deve essere affrontato in un modo sistemico, su più livelli. Innanzitutto c'è un livello normativo per cui bisogna conoscere molto bene tutto ciò che viene indicato dal regolamento e dal futuro decreto che stiamo aspettando dal governo in materia. Sulla base di questo bisogna riorganizzarsi e quindi anche identificare ruoli e responsabilità e decidere gli approcci. Poi c'è un terzo livello contrattuale che fa riferimento sia al rapporto tra il titolare del trattamento dei dati e il responsabile per la protezione dei dati ma anche tra aziende e tra coloro che ricevono servizi per cui bisogna introdurre nuove normative, nuove articoli all'interno di questi contratti che devono anche essere identificati sulla base di suggerimenti che arriveranno dal Garante stesso. C'è un quarto livello tecnico ed è qui che evidentemente il Cineca può svolgere un ruolo molto importante perché bisogna sviluppare applicazioni che siano configurate per default e by design nella protezione dei dati. E poi c'è un ultimo livello di comunicazione perché è evidente che bisogna dare informazione a chi i dati li fornisce e bisogna essere pronti a rispondere alle loro richieste anche in virtù dei nuovi diritti, ad esempio il diritto alla portabilità e all'obbligo. Quindi una problematica multilivello che richiede decisioni perché ci sono dei margini anche di discrezionalità a fare capo sul titolare del trattamento dei dati e anche sul responsabile per cui è importante che nel mondo universitario, nel mondo della ricerca, con anche la collaborazione del Cineca si trovino delle strategie condivise, quindi è importante che ci si parli, si identificano i problemi e si trovino quali sono gli aspetti più critici e possibilmente ci si muove in modo coordinato e questo renderà l'accountability più solida per tutto il sistema.